Dove ce ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli? Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3. E se vieni proprio stasera c'è una sorpresa per te. Francesco Siciniano, 65 anni, di Vaprio d'Adda, ha sparato e ucciso un 28enne rumeno che con due complici nella notte era entrato nella casa del pensionato. Ora Siciniano è indagato per omicidio volontario, ma sono in molti a invocare la legittima difesa per questo caso. Lei pensa si tratta di omicidio volontario o il pensionato non aveva scelta? Io penso che nessuno abbia il diritto di entrare a casa, in una casa privata, in qualunque ora delle giornate sia, se non è invitato. Se io mi trovo uno, un estraneo, in casa, una certa ora del giorno, cerco di difendermi, indipendentemente da ciò che dice la legge. E mi difendo piuttosto che essere ferito o che i miei familiari debbono subire. Mi dispiace ma passo l'attacco prima. Se ce la faccio, se non ce la faccio, pazienza. Il governatore Maroni ha promesso che la regione interverrà per pagare le spese legali. Secondo lei sarebbe un gesto corretto o non è questo il modo per utilizzare i soldi dei contribuenti? Un gesto corretto ma si vorrebbe una legge che difende il cittadino prima e poi quello che viene. Ma prima il cittadino. Questo non lo dicono, non lo dice nessuno. No, non è per nulla un omicidio volontario, neanche colposo. È un atto meritorio nei confronti della società, in quanto quel delinquente ammazzato non farà più male a nessuno. In questo caso lei è per la legittima difesa? Legittima difesa di se stesso e della collettività. Il governatore Maroni ha promesso che la regione interverrà per pagare le spese legali. Secondo lei sarebbe un gesto corretto o non è questo il modo per utilizzare i soldi dei contribuenti? È un gesto più che corretto ma insufficiente, in quanto non muta la legislazione. Bisognerà trovare dei mezzi più efficaci per indurre chi governa a mutare la legislazione vigente. Quindi eventualmente lei sarebbe d'accordo per quanto riguarda le armi? Perché chi dice il problema è a monto sia quello di possedere armi in casa. Secondo lei è un diritto del cittadino, dell'autodifesa o comunque sono questi i casi che poi portano a omicidi? Nei paesi civili come gli Stati Uniti è un diritto assoluto il possesso dell'arma. Quindi il fatto che sia una concessione dello Stato in Italia è un abuso. Il cittadino ha diritto di essere armato come vuole eccetera che con armi da guerra. Non è pericoloso il porto d'armi in questi casi? Come negli Stati Uniti appunto si sono visti moltissimi casi di persone forse poco sane di mente che sono entrate in scuole. I pericolosi sono i criminali, le armi sono neutrali nel senso che possono servire al bene e al male. Quindi è la persona che è pericolosa, non l'arma. Secondo me il pensionato non aveva sialta e comunque è giusto che ognuno cerchi di difendere la propria abitazione, la propria vita e la vita dei suoi familiari. Con questo non dico che sia giusto uccidere le persone, però se siamo così, sempre sotto assedio mi pare anche corretto. Se non giusto difendere la propria abitazione e la propria vita. Secondo alcuni il problema è quindi a monte, come forse accennava, quello della presenza delle armi in casa. Lei che cosa ne pensa in merito? Io di armi in casa non ne voglio e non ne vorrei neanche avere, però chi le ha è giusto che le usi. Il governatore Maroni ha promesso che la regione interverrà per pagare le spese legali. Secondo lei sarebbe un gesto corretto o non è questo il modo per utilizzare i soldi dei contribuenti? Secondo me non è corretto, però ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Chiaramente se uno deve difendersi è giusto che poi paghi anche per conto suo senza decidere o pensare di poter usare i soldi dei contribuenti.